E' la fine delle utopie, o meglio la fine dell'ingresso scenografico del pub Utopia. Le fiamme si sono sollevate questa mattina intorno alle ore 9, mandando in fumo il gazebo allestito dall'attività commerciale di Montesilvano in occasione della notte di Halloween. Lo spiazzo davanti l'esercizio di solito è adibito a parcheggio auto o durante la stagione estiva a dehors del locale. In occasione del ponte di Onnissanti però gli esercenti avevano allestito un ingresso spaventoso, in tema con la notte delle streghe. Ed è proprio la struttura adibita per la festa che questa mattina ha preso fuoco per motivi ancora da accertare. Sul posto, oltre ai cittadini curiosi, sono accorsi i carabinieri e la polizia municipale di Montesilvano che hanno gestito il traffico mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che queste raggiungessero i fabbricati circostanti. Nessun danno a persone o cose, ad eccezione ovviamente della scenografia di Halloween che questa mattina ha assunto un aspetto ancora più terrificante e grottesco.